Tennis Femminile Nell'incontro di Serie A1 tra Tennis Club Cagliari e Tici Genova la sfida tra Anna Floris e Karin Peppe è stata intensa e emozionante e viva sino all'ultimo. La tenista di casa per 2 ore e 40 minuti ha giocato il suo miglior tennis ed ha rischiato di battere al numero 56 al mondo prima di cedere per 6-7, 6-2, 7-5. Anna oggi ha giocato una grandissima partita, infatti complimenti a lei. Non era facile perché lei giocava molto bene, io non sono riuscita a entrare in partita e da un po' che non giocava anche sulla terra fuori, quindi ho fatto un po' di fatica però sono stata lì, ho lottato tanto. Sono entrata tranquilla, tranquilla perché mi sentivo bene. Sinceramente non pensavo di fare questa partita così e di arrivare al terzo set. Un po' di amarezza ce l'ho perché 5-3 per me potevo magari fare qualche cosina in più. In avvio di giornate Elisa Salis ha giocato al posto di Liana Balacciungur che si trova in dolce attesa. Troppo forte per lei Alice Balducci che ha prevalso per 6-2, 6-0. Sconfitta anche per Claudia Giovine che dopo essere partita bene è ceduta da Alberta Brianti per 6-1, 6-2. Non stavo bene fisicamente però non è una scusa, fondamentalmente mi mancava un che di energia mentale. Nel doppio Floris Giovine hanno perso a long tie-break da Knepp Balducci. La squadra maschile del TC Cagliari si è assicurata al terzo posto nel girone andando a vincere per 5-1 in trasferta contro il club La Meridiana Casinalbo-Modena. Esattamente un anno fa si giocava a Cagliari la finale di Fed Cup Italia-Russe. Karen Klepper ricorda così quell'evento. È stato un evento meraviglioso, solo bellissimi ricordi. È stato bello tornarci qua, infatti rinfrescato i ricordi. Questa dunque è l'aria di celebrazioni che si respirava al tennis club questa mattina a Cagliari. Torniamo a parlare di calcio.